Ciao ragazzi, in questo video volevo farvi vedere i saldi che ho fatto Allora, sono stata in tre posti, sono stata da H&M, da Tally Whale e alla Kiko E basta, non ho fatto altro Allora, iniziamo con H&M Allora, di H&M vi faccio vedere questo maglione Che è praticamente un maglione di quelli lunghi Con le maniche praticamente a tre quarti Ed è a righe blu e rosa chiaro e l'ho pagato 10 euro Sempre da H&M ho preso questo Che è questo praticamente maglioncione cappottone C'era in diversi colori, ho preso il suo colore stile panna Anche questo ho pagato 10 euro Che ha i bottoni, ha quattro bottoni e le tasche E' molto molto comodo E sempre da H&M ho preso questi Che sono praticamente tre spray per il corpo glitterati E li ho pagati precisamente 1 euro Scontati da 4,95 E ci sono praticamente in colorazione rosa Rosa chiaro, rosso e bianco trasparente con glitter Sempre da H&M ho preso questi Che sono due lip balm di Hello Kitty Uno che è questo rosa, rosa chiaro Allora, questo rosa chiaro è praticamente All'interno è alla fragola E questo invece fucsia all'interno è chiaro E ha sempre odore di fragola E anche questo l'ho pagato 1 euro Scontato da 2,95 Da 2,95 a 1 euro E era molto carino C'erano moltissime cose scontate a 1 euro Che erano molto molto carine Però ho preferito non esagerare E ho preso solamente queste due cose Poi, invece, sono andata da Tally Whale Che è il negozio, praticamente quello con Il... come si chiama? Con il coniglietto In stile Playboy Che ha praticamente copiato Playboy, secondo me E ho preso questa maglia Che è una maglia blu Tranquillissima Non è niente di eclatante, diciamo Mi piaceva perché aveva questi bottoncini qua Molto molto carini E questa l'ho pagata 9,95 9,95 E c'era la promozione Che se ne acquistavi due Le pagavi 12,90 Mi pare, una cosa del genere Però, visto che mi piaceva solamente questo colore Ho detto, ne compro una e basta Poi Kiko Allora, da Kiko Non ho voluto comprare molte cose Perché comunque Già da Natale mi era stato regalato Il set della Kiko Della collezione Quella natalizia Quindi non ho voluto comprare tante cose Ho preso solamente tre cose E ho preso Finalmente sono riuscita a trovare I brillantini Eccoli qua Questi brillantini qui Che erano in offerta A 2,90 2,90 E c'erano anche in argento Però Questa tipologia Mi piaceva molto di più Questa tipologia di colorazione E quindi Che è praticamente trasparente Con riflessi verdini Mi piaceva di più E quindi ho preso questa E vi devo dire che li ho provati E sono molto molto carini E poi ho preso Due rossetti Che erano in promozione a 3 euro E ho preso Precisamente Il Della linea Creamy Creamy Lipstick Il 3,88 E il 3,89 E adesso ve li faccio vedere Allora Non ho voluto esagerare Ragazzi Perché sono un pochino piena Di cosine Allora Il 3,88 È questo colore qua Che è praticamente Un colore Tendente al Bordeaux Borgogna Prugna Ma non è particolarmente forte Infatti mi è piaciuto per questo Mentre il 3,89 È sempre di quel genere Ma sul marrone Rosso diciamo Più sul mattone Che sul prugna Adesso vi faccio gli swatch Così li potete vedere entrambi Almeno vi rendete conto Perché io con i colori Non vi so dire le differenze specifiche Allora Dov'è Questo È il 3,88 Che è quello Più sul Viola Mentre l'altro È il 3,89 Che è invece Più sul rosso Sul mattone E questi sono Praticamente I due rossetti Che ho preso Sono molto simili Però Mi servivano Proprio queste due colorazioni E E niente Le ho volute prendere Però ce n'erano Anche tantissimi altri Di colorazioni Molto molto carine E io vi consiglio Di andarle a vedere Perché Ne vale veramente la pena Insomma Sono bei colori Hanno messo E poi ho visto Anche le ciglia finte Da Kiko E vi devo dire Che ero tentata Di provarle Di provarle Ma non Quelle uniche Di provare I ciuffettini Quelli piccoli Perché io Con quelle uniche Non sono capace E volevo provare Quelli a ciuffettini Però C'era troppo agente Troppo macello Spintoni Da tutte le parti E ho deciso Che ci ritornerò Prossimamente E niente Questi erano i miei saldi Io vi saluto E ci vediamo Al prossimo video Ciao Un bacio